Buonasera, oggi è sabato, 23 settembre. Iran annuncia, testato con successo, un nuovo missile balistico. Io lancio in occasione della settimana della difesa sacra, che commemora la guerra con Iraq degli anni 80. Il vettore è un grado di colpire Israele e l'Europa. Trump, Teheran sta sfidando la comunità internazionale. È in combutta con la Corea del Nord. Così non ci può essere un accordo su nucleare. L'Iran ha testato con successo un nuovo missile balistico. Si tratta del Koharas-Mishar, che era stato mostrato ieri per la prima volta nel corso di una parata militare a Teheran, in occasione della settimana della difesa sacra, che commemora la guerra con l'Iraq degli anni 80. La televisione Irib ha mostrato le immagini del lancio avvenuto ieri. Nel corso della cerimonia e Teheran, il presidente Hassan Rouhani aveva annunciato l'intenzione dell'Iran di rafforzare la sua capacità militare, e in particolare il suo programma di sviluppo di missiles balistici. Il test appara come una sfida al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha rimesso in discussione l'accordo sul nucleare con Teheran. Ha da lui definito imbarazzante e ha imposto nuove sanzioni all'Iran proprio per via del suo programma missilistico. E un nuovo test sembra così essere una risposta alla perplessità e alle preoccupazioni mosse soprattutto da Francia e gli Stati Uniti nel confronto del programma nucleare di Teheran e della completa attuazione dell'accordo 5 più 1 approvato nel 2015 a oggetto di discussioni nei giorni scorsi al vertice della Nazione Unita. Trump Così non c'è vero accordo sul nucleare. È lo stesso Trump. In un tweet ha risposto all'antico del missile balistico da parte dell'Iran. E un nuovo test di missili da parte dell'Iran sta sfidendo l'accordo internazionale con Teheran sul nucleare. E il presidente americano ha anche accusato l'Iran di collusione con la Corea del Nord. L'Iran ha appena provato un missile balistico in grado di raggiungere Israele e stanno lavorando anche con la Corea del Nord. Noi abbiamo davvero un accordo. Preoccupazioni internazionali negli Stati Uniti Nel ultimo anno l'Iran ha sviluppato un vasto programma balistico che preoccupa gli Stati Uniti ma anche l'Arabia Saudita e il suo principale rivale nella regione. Alcuni paesi europei tra cui la Francia e Israele e il suo nemico giurato. Teheran afferma che il suo programma balistico è solo difensivo Il nostro potere militare non è progettato per attaccare altri paesi ha detto Rouhani all'Assemblea Generale della Nazione Unita di New York. Il presidente americano Donald Trump ha denunciato l'accordo nucleare con l'Iran e il suo programma di balistica difendendolo imbarassante e rispondendo due giorni fa ai giornalisti che gli chiedevano se avesse preso una decisione sull'ipotesi di un'uscita degli Stati Uniti dell'accordo nucleare. Trump aveva risposto Ho deciso, senza aggiungere dettagli e in un tono più moderato il presidente francese Emmanuel Macron in sinfonia con altri paesi europei ha difeso l'applicazione dell'accordo nucleare tra l'Iran e le maggiori potenze ma ha affermato che l'accordo non è sufficiente per costringere l'Iran a ridurre il suo programma balistico e limitarne le attività nella regione L'Iran appoggia il regime siriano così come i gruppi islamisti palestinesi e i ribelli houthi in Yemen Adesso vamos a vedere il video del lancio di questo missile balistico che ha trasmesso con la televisione di Iran e i ribelli l'Iran appoggia il regime l'Iran appoggia il regime l'Iran appoggia il regime è il primo palestine di qualità l'Iran appoggia il regime Grazie a tutti. 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 Questa è una cosa molto strana da vedere perché il diritto deve essere uguale a tutti. Un esempio è gli Stati Uniti ha molte bombe nucleari, molte. Io non so adesso il numero esatto. Il primo è gli Stati Uniti dopo Russia. L'Iran sta sviluppando il suo programma nucleare per avere la sua prima bomba atomica. Io penso che l'Iran c'è una o due bomba nucleare perché l'Iran in questo caso è più ricco di Corea do Nord. Allora questa sarebbe una cosa certa, se è Corea do Nord, c'è tre, quattro, cinque, dieci bomba nucleare. Io penso che è lo stesso con l'Iran. Questo è un diritto. è una grande vittima dell'Iran è una grande vittima dell'Oriente. Sempre. In questo caso, in questo caso, in mia opinione, Israele fa lo stesso che ha fatto Hitler contro i... durante l'Olocausto, durante la seconda guerra mondiale. Lo stesso caso Israele fa con i palestinesi. Prima di avere l'Israele, aveva Palestina. Ma, l'ONU ha fatto un stato di Israele, ma non ha fatto un stato palestinesi. E questo è un grande sbaglio. Questo è il più grande sbaglio delle Nazioni Unite. Israele ha dichiarato molte volte che è nemico giurato dell'Iran. L'Arabia Saudita ha fatto lo stesso. L'Arabia Saudita vuole essere una grande potenza. Sì, l'Arabia Saudita è una potenza. E riceve appoggio americano. L'Iran, anche l'Iran, è una nuova potenza in questa regione. E il problema è che, altra volta, gli americani stanno facendo di tutto per entrare in una guerra contro l'Iran. Ha fatto lo stesso con l'Iran, che ha detto molte bugie e ha fatto una guerra contro l'Iran per usare il suo petrolio, per esempio. E voglio fare lo stesso contro l'Iran. E la mia opinione, in questo punto, l'Iran non è un grande nemico in questa regione. E un nemico in una regione è gli americani e gli interessi degli Stati Uniti in questo punto del mondo. Questa è la mia opinione. L'Iran, come ho detto all'inizio, ha il diritto di fare test militari, di test missile. E se il Trump vuole uscire dall'accordo nucleare con l'Iran, che sarà una cosa stupida che questo stupido presidente americano farà nel mondo. L'Iran ha accettato molte cose in questo accordo. Ma dopo anni parlando con l'Iran, l'Iran ha accettato durante il governo Barack Obama, adesso un stupido come questo che è Trump vuole cadere in terra un accordo troppo importante. E super profondamente, come ha detto il presidente dell'Iran, Hassan Rouhani ha detto, che stiamo facendo per proteggere il nostro paese, non per attaccare altri paesi. E' diverso dall'Israele. L'Israele sempre cerca un litigio con i suoi vicini. Sempre. Perché? Perché gli Stati Uniti sempre sta dentro dell'interesse nella regione. Io penso che se il governo americano smettere di entrare nei conflitti del mondo, io penso che molte guerre non esistiranno, non esistirebbero. Grande parte dei conflitti nel mondo è provocato per l'interesse americano in tutte le guerre nel mondo. Io penso profondamente che in questo senso gli Stati Uniti è un grande nemico della pace nel mondo. Quando dice che la Corea del Nord è un nemico, che l'Iran è cattivo, che l'Iran è un diavolo. Io penso che il più grande diavolo nel mondo è gli Stati Uniti. Prima negli Stati Uniti, dopo l'Europa, negli Stati Uniti. E la cosa è che la gente, i paesi ricchi, non vedono questo punto. E se comincia una guerra contro la Corea del Nord, sarà il fine di tutti noi. Purtroppo sarà questo. Sarà peggiore che la guerra della seconda guerra mondiale. Sarà, io non lo so, peggiore perché adesso sarà come arma nucleare. E spero profondamente che durante questo maledetto governo americano di Trump, la situazione nel mondo non cambia. Spero che continua così, con tensione, senza una guerra dichiarata. Perché sarà, io penso che Trump vuole una guerra contro il mondo. Perché pensa che gli Stati Uniti uscirà vincitore. Questo non succederà. Gli Stati Uniti ha perso la guerra di Vietnam. Ha perso praticamente la guerra di Afghanistan, che continuano un conflitto con la gente di Afghanistan. Io penso profondamente che gli Stati Uniti perderà una guerra mondiale, se loro provocano una guerra come questa, che sta dicendo, contro la Corea del Nord. Spero che questo non succeda. Ma io non so cosa passa nella testa di un pazzo, stupido, ignorante, come il Presidente americano. Grazie tanto per guardare un nuovo video. Se vuoi imparare italiano o parlare con me italiani, vieni qua a classi particolari di idiomas, o non possiamo fare lezioni in italiano dai scappi in qualche posto nel mondo. Quando vedi questo video con la tua famiglia, amici, con tutto il mondo, dalle mi piace a mia pagina su Facebook, abbonati al mio canale su YouTube e la tua inscrizione è troppo importante per me, perché è la motivazione che ho di fare video tutti i giorni. Nel mio canale tu puoi trovare altri video in altre lingue, portoghese, brasiliano, spagnolo, francese, inglese e anche italiano. Sono interessanti notizie che ho cercato, che ho letto, che hanno dato la mia opinione. Allora, condividi, guarda, commenti, dalle mi piace ai miei altri video. Se vuoi parlare con me direttamente su qualche tema, puoi inviare un messaggio tra Whatsapp. Questa è il mio numero di Whatsapp, sarà un grande piacere ricevere il tuo messaggio. Come sempre un saluto speciale alla mia Italia amata, Italia ti vuole bene, a tutti gli italiani nel mondo, a tutte le persone che le piace questa meravigliosa lingua. Una buona notte di sabato o un buon giorno di domenica. Grazie tante e ti vediamo domani. Arrivederci. Ciao.